e siamo ufficialmente impertinenti ci mancava e ci mancava tantissimo non lo dicevamo da 14 minuti circa abbiamo solo mangiato il nostro KFC tra l'altro KFC Glove se volete i bani in descrizione noi ci proviamo tutte le volte scusate se sono sempre vestita uguale ma fa freddissimo io avevo portato dei cambi io ho portato tre felpe diverse invece sono molto brava io ho portato le magliette non pensavo che facesse così freddo ma quante collane hai tipo i rapper che hanno 46 collane tra l'altro la targhetta proprio la cate d'oro tra l'altro sono quasi due della Sardegna e una carina che sei bentornati su Unicorn Island Podcast numero uno in Italia come sempre no? siamo numero uno dappertutto proprio e come potete vedere barra sentire potete vederci su YouTube al canale Unicorn Island altrimenti ci potete ascoltare su Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast e quant'altro comunque trovate tutti quanti i link in descrizione assolutamente inoltre noi possiamo diciamo abbiamo la possibilità di fare questo podcast grazie ai nostri sponsor quindi Xiaomi e Red Bull grazie mille grazie mille prego che cosa fare senza di voi saremo due poveracci altrimenti siamo ancora due poveracci però grazie a voi possiamo fare quello che stiamo facendo che ci piace trasformare i sogni in solide realtà vabbè ringraziamo anche con l'Ibri 12 che è la nostra produzione sì che purtroppo oggi in questo momento ci ha abbandonato non ce l'ha fatta però vabbè però vogliamo loro tanto bene grazie per tutte le emozioni che ci date e come potete vedere anche la scenografia è fatta da Fra Folk bellissima grazie mille trovate sempre tutti i link in descrizione detto ciò vi piace la tazza di Unicorn Island Podcast secondo me è molto carina guardate che bella molto bella ok oggi siamo qui riuniti per per parlare di figure di mmm merda scusa io l'ho detto ho voluto dirlo non volevo dirlo così però ci sta figure di merda vi abbiamo chiesto su Instagram su unicorn.island sul nostro Instagram di raccontarci un po' di vostre diciamo brutte figure mettiamola così e abbiamo ricevuto veramente un botto di messaggi cioè ci avete riempito di figure infatti siamo molto contenti che siate voi a seguirci perché insomma siete un po' come noi che fate sempre figure di merda sostanzialmente cioè siete pieni di figure di merda ma io in realtà non ne ho di figure di merda cioè racconterei volentieri ma sono perfetta no non è vero facciamo che ne ho talmente tante che non riesco a scegliere una da raccontare ok ora meglio la mia vita è una figura di merda cioè non è sì ho fatto l'abitudine non è che faccio figure di merda ormai è così ormai sono una figura di merda soprattutto io sono una specialista nei commenti poco opportuni tipo sai quando parli di una cosa e dici no cioè io sta roba qua ve lo giuro che ve la odio oppure che lavoro di merda quando dici ah che lavoro di merda oppure parli con una e puntualmente la persona con cui stai parlando il padre o la madre fa quel lavoro bellissimo oppure che parli di una persona te la ritrovi dietro cioè tipo stai parlando tipo con i professori un sacco di volte è successo non a me ma dei miei dei miei compagni che si parlava di qualcuno e poi ti trovi il professore dietro sì è stato bellissimo sto stronzo oh buongiorno oh buongiorno no ma noi tra l'altro inventavamo un sacco di soprannomi terrificanti che non sono non sto qui a ripetere se no facciamo notte e una mia compagna stava proprio ripetendo uno di questi soprannomi che era brutto proprio brutto bruttissimo si gira e c'era lei così ragazzi era stordita non ha capito niente però abbiamo avuto un attimo di panico abbiamo detto siamo fregati immagino la nostra copertura però sono molto curiosa di sapere invece le vostre figure quindi intanto andiamo a sentirle ma soprattutto per voi che diciamo non avete ancora avuto l'opportunità di raccontarci le vostre scrivetecele assolutamente nei commenti perché siamo siamo curiosissime di sapere le vostre figure vogliamo spaccarci da ridere e oltre a questo diteci anche di quali altri argomenti vorreste parlare vorreste che parlassimo e che vi chiedessimo su Instagram unicorn.island possiamo già partire diciamo con il primo possiamo già partire allora sto cercando un vocale però prima direi di leggere questo qui di non so se vuoi che il mondo sappia il tuo nome quindi ti chiameremo Nina che sì Nina va bene allora Nina scrive si avvicina San Valentino io ho stra ansia perché non ho alcuna voglia di festeggiarle non so come dirlo al mio fidanzato così gli dico senti i miei non hanno mai festeggiato San Valentino quindi non è una cosa a cui tengo particolarmente i tuoi lo festeggiano il problema i suoi sono separati da meno di un anno e io dovevo sbagliare a parlare proprio in quel momento poi lui mi ha lasciato malissimo il giorno del mesiversario nove giorni prima di San Valentino quindi il problema non si è posto però boh non penso mi abbia lasciato per questo no non so ancora il perché ma lasciamo perdere questo argomento perché mi sto dilungando a caso perché probabilmente non l'ho ancora superata ma ok va fantastico è diventato tipo apposta del cuore perché sì quindi i suoi si erano tipo appena lasciati sostanzialmente sì e lei gli ha detto ma i tuoi lo festeggiano San Valentino mamma mia brutta questa molto brutta no brava però questa è questo è già un buon livello devo dire di figura di merda sì molto brutta abbastanza dai dai ce ne sono di peggio ne ho fatte di peggio io ok abbiamo un messaggio vocale da parte di Sofia noi diciamo solo magari i nomi o soprannomi così non pronti ma Sofi vai allora questo è l'audio per le FDM del podcast e in pratica sono cioè questa qui l'ho fatta un anno fa dalla parrucchiera che tra l'altro non era quella mia cioè che conosco era quella dell'estate capito quindi proprio oh mio scusa tu hai due parrucchieri una dell'estate e una dell'inverno non lo so non lo so io non sono così che bello beata te in pratica è successo che stavo leggendo Harry Potter e il principe mezzosangue sì bello molto bello e cosa è successo in pratica attenzione c'è uno spoiler per chi non l'avesse ancora letto ho visto quando è morto silente io mi sono messa a piangere proprio per una fontana diventata e sono diventata mia madre è venuta a consolarmi mi ha detto che è successo io piangendo l'ho detto è morto silente e in pratica la parrucchiera si era preoccupata perché credeva che fosse morto qualcuno insomma mio zio non lo so che è e mi sono preoccupata io ero una fontana tra le braccia di mia madre perché era appena morto silente mentre mi facevo lo shampoo stavo con la testa all'indietro e il libro tenuto praticamente in aria sopra la testa quindi mentre mi facevo lo shampoo mi sono messa a piangere e niente è stata abbastanza imbarazzante dato che io poi in quel posto ci devo tornare tutte le stati è tornata a piagnona è tornata a piagnona no questa è quella che ha pianto l'altra volta allora Sofia complimenti no è bellissimo ti giuro grazie grazie complimenti veramente questa era veramente molto molto bella è meraviglioso perché poi mi sono ritrovata in te in questa cosa di piangere nei momenti poco opportuni no si meraviglioso tu soprattutto vabbè vado avanti con un altro vocale grazie davvero Sofia meraviglioso questo è di Alex ciao a tutti sono Alice vi saluto ti voglio tanto bene anche noi ti vogliamo bene la mia esperienza risale a due giorni fa quando mentre parlavo della mia crush che è un mio attuale amico con una mia amica io ho mandato un messaggio vocale per spaglio a questa mia crush pensando di parlare con l'amica dicendo di quanto lo amasse e quanto lui fosse uno stronzo perché appunto in tutti quei giorni in cui gli parlavo lui mi diceva quanto amasse la sua fidanzata e io l'ho mandato a lui pensando di stare parlando con la mia amica e lui mi ha risposto pensando fosse uno scherzo gli ho detto sì stavo scherzando sì oh mio dio stupendissimo oh mio dio non ci sto credendo è troppo bello questa è veramente cioè non è una figura di merda è quando proprio tu non vorresti più esistere dal mondo no cavolo io mi immagino tu che sei lì tipo che stai mandando il vocale poi ti rendi conto dici oh mio dio vedo proprio il momento sto sentendo la sensazione della serie voglio morire voglio morire io sarei morta dentro proprio no ragazzi quindi lui alla fine però non cioè non ha creduto questa cosa e quindi ha pensato che fosse uno scherzo cioè è andata bene sì ma vabbè venino cioè no che ansia raga che meraviglia ok io volevo il mio microfono però è rimasto là che peccato accidenti poi lo vado a prendere a un certo punto sparirò per andare a prendere il microfono tieni leggi leggi questo vai leggiamo questa figura di merda di Lucrezia cara Lucri allora come figura di merda allora qualche settimana fa io e le mie compagne che poi sono le mie migliori amiche stavamo sparlando di alcuni nostri compagni che ci vengono dietro ma a noi non piacciono ecco ma a noi non piacciono dopo un po' ci chiama il mio migliore amico che è uno dei ragazzi e niente parliamo un attimo e insieme a lui c'erano altri due due di quei ragazzi finiamo la telefonata e io e le mie amiche riprendiamo a parlare la cosa è imbarazzante ci siamo accorte che la chiamata era ancora accesa e loro avevano ascoltato tutto dopo una mezz'ora abbondante mi lascio immaginare già no no questa è un'altra brutta no che hai fatto Lulli perché Lulli no sto malissimo raga ma le vostre figure di merda sono meravigliose sono belle proprio sono proprio belle cioè io non mi ricordo di aver fatto delle figure di merda così belle no ragazzi è meraviglioso poi la telefonata accesa è un incubo secondo me che hanno un po' tutti sì 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 infatti io ogni tanto quando parlo poi controllo anch'io mamma no è assurdo è imbarazzantissimo oddio meraviglioso allora sentiamo il messaggio vocale di Elisa vai Elisa ciao Serena il campio è stata scusa comunque la mia figura di M è stata che stava al campeggio e praticamente dovevo farmi la doccia però il bagno non stava vicino a me e nel frattempo c'è il campetto e Crash stava all'interno nel campo il campetto il problema è che io dovevo andare in accappatoio e indovinate mi ha visto e mi ha guardato con aria ma che sta facendo questa qua e immaginate il disagio comunque ciao in accappatoio ma sai che anche a me è successo tipo quando andavo in campeggio o quando ero in camper con i miei genitori che magari i bagni fossero proprio dall'altra parte del mondo e a me è successo un sacco di volte di avere l'accappatoio dopo la doccia e che poi si alzasse il vento e che quindi io avevo questo accappatoio mi stavo cercando di tenermi con qualunque parte del corpo però volavo via mi si chiedeva la qualunque non credevo aver avuto questa esperienza cioè a me l'accappatoio si apre sempre a prescindere quindi se io girassi in campeggio in accappatoio probabilmente si aprirebbe tutti vedrebbero le grazie che non mi hanno dato perché non mi hanno dato nessuna grazia però vabbè sarebbe molto imbarazzante carino vuoi leggere questo? vorrei leggere dai fammi leggere figure di M il primo giorno di prima media sono caduta davanti tutta la mia nuova classe oh così questo è un classico proprio questo è sì a questa ce n'ha di più cioè ne ha tante una volta stavo aspettando questa è Giulia grazie Giulia una volta stavo aspettando che la mia migliore amica arrivasse a scuola e intanto stavo poggiata su un palo nulla a dire che a un certo punto non riesco a capire come leggere a un certo punto arrivano due di seconda media che si cominciano a baciare proprio davanti a me io come un imbecille che mi giravo su me stessa per non assistere alla scena questo sono io nella vita una volta al negozio di alimentari stavo guardando un oroscopo visto che c'era una fila lunga arrivo davanti al cassiere non me ne sono accorta stavo continuando a leggere l'oroscopo e lui mi fa 3 euro e 50 e io gli faccio se sei vergine perché stavo leggendo l'oroscopo e non mi sono accorta lui mi guardava tipo malissimo non l'ho capito ho già chiesto al cassiere se era vergine non ho capito io gli faccio se sei vergine se sei vergine tu lo sai battire le mani ma tu non sei vergine tu sei gemelli io sono gemelli tu sei vergine io sono vergine che brava che brava che brava ragazza che sei me lo dicono tutti mi dicono che sono una brava ragazza me lo dicono da sempre sai quando i maschietti in terza cioè tipo non in terza media alle medie in generale iniziano a fare le battutine tipo ma qui c'è i vergine e tutte le mie compagne che erano gemelli cancro e cose e va scorpione e non capivano tra l'altro erano stupide ma non capivano il doppio senso non ho capito come fare a capire il doppio senso io capivo il doppio senso però non potevo neanche dargli questa soddisfazione capito esatto perché che ti devo dire eh sì andiamo avanti con un vocale di Joe vai allora ciao sono Giorgia 14 anni vivo vicino a Busto vabbè iniziamo con la mia figura di M ok allora praticamente ciao Giorgia ci ho giunto un sacco all'oratorio ed eravamo andati a messa una volta ogni vabbè eravamo andati a messa finita la messa siamo usciti a mangiare un gelato nella gelateria che c'era lì vicino allora tramite amici educatori eccetera eccetera ci mettiamo a parlare di tipo ragazzi e chi ci piace no e allora io tipo me ne vengo fuori con oh mio Dio ma quello che piace a me è stracarino dicendo anche il nome e tipo oh mio Dio ma è bellissimo cioè sposami amami adorami e e allora poi tipo cioè parliamo così e allora poi quando ricordo queste cose c'era il silenzio cioè non è che c'era il silenzio però mi dicono tipo Giorgia girati io mi giro ed il ragazzo era lì oh mio Dio quindi tipo credo abbia sentito una cosa come tutto però ok e poi le mie amiche lo hanno pure salutato cioè tipo ehi guardate mi stiamo parlando di te ah 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 queste amiche le amiche sono veramente quelle amiche quelle brave proprio eh adoro comunque amiche veramente simpatiche sì sì sono quelle amiche simpatiche oserei dire no sai quando proprio fanno anzi ah c'è con te c'è 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 nunca así così sì vabbè abbiamo altre mi sto divertendo un sacco avete delle figure di merda meravigliose ah io sono quella che lei legge no se vuoi cerca però io sto trovando questo verry verry chiamiamola verry l'altro giorno ero a fare shopping con la mia famiglia ho chiesto secondo il c'è la mia mamma faccio fatta una foto faccio per restituirlelo quindi le faccio topiglia porgendoglielo ma lei non mi ha risposto glielo ho detto tipo per tre volte e poi mi sento qualcuno ridere mi giro e non era mia madre no era un'altra tizia che se la stava ridendo dalla grossa io oh mi scusi disagio per fortuna che non ha preso il telefono sì beh ti immagino grazie me lo immagino me lo immagino to to mamma dai a me è scappata tantissime volte magari io con te sempre cioè che tu ti fermi in mezzo alla strada tipo a guardare gli uccellini sull'albero io che continuo a parlare poi mi giro no hai capito e c'è una di fianco a me che non è lei e con cui sto parlando magari anche degli affari miei e questo sì mi capita di sovente di sovente abbiamo Chiara che ci manda un meraviglioso vocale prima dice ne ho fatte così tante figure di merda io non saprei quale raccontarvi quindi siamo tutte molto curiosi allora ciao vi vorrei raccontare una mia figura di Embe fatta di recente allora era una specie di funerale in un paese non spero di nulla quindi era una chiesa abbastanza piccola al che vedo un signore di lato senza barba si gira completamente quindi si mette di profilo è noto che ha un pezzettino di barba molto lunga quindi mi scappa una risatina però molto forte e le persone davanti a me che erano per lo più vecchietti si girano verso di me e mi guardano malissimo praticamente io volevo morire praticamente io volevo morire ma perché era un funerale ah sì voi pensate vicino alle basette no no proprio al centro della guancia forse starà lanciando una nuova moda adoro il signore con la barba si voleva fare una treccina no meraviglioso a me capita spesso di ridere negli altri no però in queste circostanze tipo funerali o gente che mi dice ah sai è morto e io no non lo faccio è una reazione automatica allora a ridere facciamo leggo l'ultima sì se non leggi l'ultima noi non ce ne andiamo avete presente la canzone Chiara Ferragni è bella nuda io all'inizio dell'anno ero fissata anche Francesca la cantava sempre la mia ragazza e invece no sono molto contento molto spaventato Chiara ha deciso di stare con me ho una paura fottuta di Chiara perché uso sempre i leggins in ogni momento leggins una mia prof si chiama Chiara oh aveva fatto la domanda no aveva fatto la parodia insieme ad una mia amica del tipo sono molto sorpreso molto spaventato Chiara ha deciso di interrogare me ho una paura fonduta di Chiara mi può dare cinque bellissimo un giorno a ricreazione mi ero scordata che ci fosse e sono andata ad una mia amica a canticchiarla come se nulla fosse inutile dire che mi ha sentito bellissimo sempre cinque ma io avrei riso un sacco fosse stata la prof anzi mi sarebbe stata simpatica la mia alunna da quel momento fa la canzone su di me meraviglioso e niente grazie Eva per questa bellissima figura e anzi ci fa un'altra fdm sempre con la stessa prof lei a instagram emette foto del suo gatto e dell'uva con sottoscritto a casa banana censurato siamo propri siamo pronti per la vendebbia non so parlare per la vennemmia vendemmia non so parlare vennemmia io l'ho visto solo una volta ma ci rido ancora ormai tutta la classe ha visto il suo profilo ista e un giorno alcuni miei compagni l'han detto che la stalkeravano per fortuna sono una ragazzina a modo e non ci ha creduto anche perché non era vero comunque si bello stalkerare i professori sui social anche io lo facevo solo che quando andavo al liceo non era ancora tanto in voga instagram quindi le stalkeravamo solo un po' su facebook eh si no ma io c'avevo anche quelli che c'avevano instagram ma hai attorno un'idea di che che robe meravigliose i miei professori non li ho mai trovati su instagram scusa caro tranne uno che vabbè no comment però ne parliamo un'altra volta va bene comunque ragazzuoli scriveteci nei commenti mi raccomando le vostre figure perché siamo super super mega curiose di saperle e direi che possiamo passare direttamente alla challenge cosa dice vi ricordiamo che appunto noi alla fine della puntata facciamo sempre la challenge in cui dobbiamo mettere le ali al nostro cervello no quindi diciamo con la ruota della fortuna la ruota della red bull ci ci dilettiamo e vogliamo iniziare a girare la ruota iniziamo a girare la ruota pronti via unicorni non è ancora uscita non è ancora uscita unicorni che bello incredibile mi piace ci piace voto 10 possiamo rimettere la ruota da dove è venuta o la lasciamo qua no lascia un po' qua si la lascia un po' qua che mi piace la metto qua che si vede bene no ti prego ti scongiuro non ce la faccio non ce la posso fare si grazie così preferisci no non preferisco lo metto via lo metto via come funziona basta come funziona la challenge unicorni è un po' difficilino ma secondo me no puoi per favore farlo smettere grazie è un po' difficile da capire ma secondo me poi durante la challenge capirete esattamente comunque sostanzialmente Francesca deve rispondere alle mie domande con la risposta corretta della domanda precedente cioè io faccio una domanda lei alla prima domanda deve rispondere unicorni perché sarà la risposta alla seconda domanda che faccio lei dovrà darmi la risposta giusta della domanda precedente che le ho fatto non abbiamo assolutamente preso ispirazione da gamberoni per niente proprio però andiamo andiamo Elio se stai guardando questo podcast vi invitiamo al podcast ok allora ci sei faccio fai tu immagino perché tu sei la più intelligente grazie grazie sveglia io intelligente tu ah giusto io sono quella intelligente ok sei pronta sì no allora io ti faccio così se è giusta pronta se però sbagli bisogna ricominciare da capo è difficilissima ok ok pronta come si chiamano quelli che si mangiano solo mele unicorni come si chiama l'ultimo film degli Avengers l'ultima canzone di Greta Menchi Endgame dove si trova il basilisco in Harry Potter fuori di me se voglio vedere unicorn island podcast dove lo trovo nella camera dei segreti ti stai laureando in ah no youtube bravissima come si chiama la paura degli spazi chiusi no psicologia come si chiama la famosa canzone di Martina Attili aspetta la la claustrofobia come si chiama il mio canale youtube la claustrofobia cosa si dice quando qualcuno starnutisce stai serena eh sono finite si è stata bravissima si è stata brava cioè è stato è stato immediato proprio oddio è stato super immediato ti giuro che non mi sono accorta del tempo che passava ero tipo in un limbo senza tempo l'abbiamo fatta tipo in 30 secondi oddio ma è stato bellissimo ti è piaciuto? perché il tempo si dilatava mentre io cercavo la risposta eh sì perché allora le prime è stato facile perché comunque ero sul pezzo non riuscivo più a capire stai serena claustrofobia è difficile handgame cosa è successo bello però molto bello molto carino lo rifaremo poi con i nostri ospiti certo cosa dici? lo facciamo più lungo io pensavo che fosse anche io avevo lo saputo l'avrei fatto con molte più domande invece pensavo che le facciamo un'altra domanda come si chiamano i nostri sponsor? unicorni eh cosa bevi per tirarti su? Red Bull e Xiaomi cosa aggiri per fare la challenge? Red Bull vabbè però o niente che ha fatto questa bellissima scenografia? la ruota della fortuna e chi come si chiama la nostra regista? Fra Folk e come si chiama la produzione? Charlie Moon come cosa fai quando sei stanco? colibri 12 e quando vai in bagno? dormo in cosa vabbè basta non lo so più bellissimo bellissimo bella anche improvvisata così mi sta piacendo molto questo gioco vabbè se vi piace lasciateci un commentino e mi raccomando vi ricordiamo assolutamente di lasciarci le vostre figure di merda in descrizione assolutamente in descrizione buona nei commenti assolutamente detto ciò ragazzi noi vi salutiamo e vi ricordiamo che comunque noi vogliamo cercare di fare più puntate anche solo con noi due perché comunque è molto divertente anche così vogliamo cercare soprattutto di coinvolgere più voi perché comunque con gli ospiti ce ne saranno ancora tantissime le puntate le faremo sicuramente però è molto più divertente anche interagire con voi e cercare di capire anche voi più o meno come siete messi nella vita sì devo dire che oggi abbiamo girato delle puntate con appunto con voi con i vostri commenti io mi sono divertita tantissimo cioè avervi come ospiti è meraviglioso è meraviglioso quindi voglio rifarlo anzi scriveteci anche degli argomenti futuri che vorreste che fossero trattati assolutamente sì e seguiteci su instagram unicorn.iland perché lì vi chiediamo tutto quanto sostanzialmente così ci potete mandare i vocali disagiati ti mando un vocale i dieci minuti eccetera noi allora a questo punto vi salutiamo vi ricordiamo che ogni domenica ore 12 noi siamo su youtube nel canale unicorniland e anche su speaker spotify itunes apple podcast google podcast eccetera eccetera quindi sulle piattaforme d'ascolto andateci a seguire lì dateci 5 stelline e 5 euro e poi ovviamente ringraziamo anche i nostri sponsor redbull e xiaomi e ringraziamo anche la nostra produzione con le brito e dici charlie e fra che se ne sono andate però addio però va bene così sono nei nostri cuori e nella nostra scenografia grazie fra per la scenografia noi ci vediamo domenica prossima ore 12 mi raccomando continuate a seguirci restate sintonizzati e vi auguriamo una buonissima settimana ciao 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 ciao